Facciata 4F Facciata 4F per foro, finestra, facciata e fuoco. Quattro significati che vanno a raccontare, quattro caratteristiche funzionali ed estetiche che deve ricoprire questo nuovo prodotto. La versione, il campione proposto al Made, le ha rese esplicite in maniera molto positiva dai commenti dei visitatori e degli architetti che l'hanno visto. Una facciata che è costruita con i nostri quattro materiali e che ha la possibilità di integrare all'interno di uno dei suoi grandi moduli vetrati, vista la grande capacità dei montanti presenti di aprire le specchiature, la capacità di inserire i sistemi tipici di secco, OS2 in particolare, che grazie alle sue linee snelle, sottili e grazie all'utilizzo degli stessi materiali hanno dato la possibilità di disegnare all'interno un serramento che caratterizza in maniera molto particolare il serramento. Non solo facciata normale, non solo serramento, ma anche caratteristica di resistenza al fuoco. Con gli stessi montanti, gli stessi traversi, attraverso il cambio di alcuni piccoli oggetti interni, ma molto significativi dal punto di vista della prestazione, la stessa facciata, con le stesse finiture, ha superato il test di resistenza al fuoco e i 90. Questo a dire che quando nell'architettura si vogliano andare a presentare prodotti con caratteristiche diverse, non si deve per forza dover cambiare il prospetto e l'aspetto estetico degli elementi. Ecco, 4F penso che abbia raggiunto appieno questo ambizioso obiettivo.